Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89 Piccola premessa, magari la videocamera poteva essere sistemata meglio Magari non potevamo mettere le bottiglie Ragazzi, io cerco di portarvi sempre la massima qualità e novità sul canale Se avete qualcosa da dire, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto Fate una bella critica o lasciate dei bei consigli E io, come sempre, ci terrò conto e cercherò di migliorare ogni volta Signori, mi raccomando, disintegriamo questo video di like Bella Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89 Signori, siamo qui io e Patrizia oggi Ad accettare la sfida che ci ha lanciato Mike Scioscia della Water War Challenge Ambra lo ha devastato e lo ha umiliato Ma io sono qui per devastare e umiliare Patrizia Patrizia, sei pronta? Lo vedremo, lo vedremo Ok, signori, tra l'altro questo video è anche a 360 gradi Che lo potete vedere benissimo qua Spero che l'idea vi piaccia perché sto facendo sempre i miei soliti esperimenti Signori, come funziona? Ve lo spiego Abbiamo 5 mezze bottiglie, quindi un litro d'acqua a bicchiere Praticamente ne abbiamo 5 a testa Dovremmo girare per 5 volte le carte Chi prenderà la carta più bassa gli verrà gavettonato un bicchiere d'acqua Se dovessimo prendere la stessa carta Dobbiamo girare 3 carte e chi è? Poi se prende una secchiata d'acqua, questo può succedere una volta Chi perde la challenge viene gavettonato con un tubo pieno, pieno, pieno Signori, mi raccomando, superiamo i 30.000 like per questa sfida Signori, let's go Hai mischiato le carte? Ok, io ho denaro e coppe Lei ha spade e bastoni Ah, proprio così? Eh, per forza, devo mischiare i numeri per bene E che mischiamo a cazzo? Qua siamo professionali, ma non ho capito io Ah, hai già fatto i tuoi giochetti Non ho fatto nessun giochetto, hai mischiato? Sì, sì Sei sicura? Sì, sono Parla un po' più forte perché abbiamo i microfoni là Scusate Ok, perfetto Pronta? Sì Signori, carte per terra Ricordatevi che l'acqua è relativamente fredda Quindi ci sta Sei pronta? Sì Là Signorina Signorina, me sa che ci becca un gavettone d'acqua Io ne sono abbastanza sicuro Certo di nascondere gli occhiali Ok, io sono più bastardo di Mike Non lo lancerò ma lo verserò da sopra Ma piano piano Quindi Signori Ah L'acqua è tanta, eh L'acqua è tantina Ok A posto E uno l'abbiamo fatto Ho cercato di salvare gli occhiali, almeno quello Mi sembra giusto L'importante è salvare gli occhiali e perdere miseramente Sei pronta? Un attimo Ok Adesso ci vedo Ah, sei bella fresca Sì Pronta? Vai Uno, due, tre L'ha mischiata a favore Ma se io ho mischiato le mie e tu hai mischiato le due Ma che vuoi? Eh, io non lo so Benissimo, vada Ok Questo Lo faccio per i miei fan Lo faccio per voi Come vendetta per Mike Stia dritta Ok No, vedete Dritte lì Non avevo sete però No? Ok Tra l'altro Con la camera a 360 Vedete cose che poi qua non potete vedere Sei pronta, Patrizia? No È molto divertente Io mi sto divertendo tantissimo Oh, bello, eh L'avete visto? Carte, mischiate lei Piazzi Sta cominciando a fare freddo Le zanzone di Cristo Allora, pronto? Vai Ah, Patrizia Io non so che ditte Eppure io l'ho mischiata, regà Giuro A me va bene così Oh Vedi? Vai Ciao, occhiali E posali Addio Io ho voluto bene Allora Faccio vedere a loro la mia prossima carta No glielo dite a Patrizia, eh Vai Tre Due Uno Ah 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 Fa freddo Vengono i capezzoni miturgiti Ah Ah Mi scusi Sei molto calma, eh Stai attento a quello che fai, eh Ah Stai attento a quello che fai, eh Ah 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 È freddissima Ah Ah Oh, papilla È fredda Sì, ma un pochino più celere No, di una schiena No, no, no Un pochino più celere Non se può, eh Stavo qua Ah Ah Tanto il gavettone finale che lo fanno a fare Ah 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 È bella fresca È bella fresca Tiè Ah Sulle carte Tiè Ok Torno alla mia postazione Babba via Babba via Stavo tanto bene a ricoperare Ah Io stavo Babba via La vendetta va servita fredda Molto fredda Se è per quello Sei pronta? Ragazzi, dov'è il vostro supporto? In questo momento eravamo partiti Benissimo Benissimo Patrizia Benissimo Eravamo partiti Che fine ha fatto il culo? Eh Allora, qui c'è ancora Sì, ma non è che tu mi devi Tipo pennellare con l'acqua, Patrizia Che sei È leggermente più calda di quell'altra Ok E con me ti sei abituato, eh Certo Corvento che tira Pronta? Ah Mike 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 Stavamo vincendo Ci sta ricoperando Mike Ti giuro Mike Che ho provato io Che ho provato E sta una gelata E sta una gelata Ma che cazzo le fontanelle ci avevamo? Calda Ma questa è calda Ma le soffredde, è sicuro Vai, vai, vai Lontà? Vai Aspetta Ragazzi Non guardate Me la prendo, eh Me la prendo Signori, lo vedete? Io sto senza occhiani Non ci vedo, eh Ok, è vero Quindi posso fare La pure vede per così Tanto non la vedo Sieni qua Non possiamo perdere Qua la prendo, eh 3 2 1 Ecco Signori Mi sa che non viene Questa è caldissima È caldissima Roger, Roger Sei pronta? Sì Sei pronta? A mia è bassa A mia è bassa A mia pure La che dall'altra parte Signori Ultima 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 Tanto bagnati siamo bagnati Quindi La mia non lo so Ve la faccio vedere Qui qualcuno si fa Una doccia a fredda Non lo so La tua con me? Eh Fa la sua porca figura Aia Signori Io ce l'ho provato Ma niente 3 2 1 Carte uguali Non ce ne so capitate Però La la Olè Ma perché Non ce l'ho celato Ma perché Mi soccarle E mi soccarle Allora Visto che Non sono uscite le carte Quell'altra Direi che puoi svuotarmi Tutte le ciotole Senza utilizzare il tubo Esattamente Esattamente Allora Prima questo E poi il tubo Allora Questa è celata Questa è fredda Mamma mia È gelata Patrizia È gelata Sei pronta Io come faccio A farvi vedere Aspetta Mi faccio vedere Guardate Questo non lo potete vedere Da nessun'altra parte Adesso butto una videocamera A 600 euro Guardate Questa sta qua dentro Ha visto le bolle Mamma mia Ha visto le bolle Ripetiamola qua Esplode Sei pronta Vai Ma è gelata Rega È gelata Ve lo dico È gelata Bagnetta È gelatissima Sei pronto Questa è calda Butta Butta Vai Ok Allora Dicevamo È stato divertente Stavo vincendo io Stavo vincendo io Ma niente Era calda però Signori Verissimo Noi a nostra volta Chi sfidiamo Gabbo Joker E E E che ne so chi Gabbo Joker Perché non so chi è fidanzato Anzi Nel dubbio Jumpy Tech E Murray Così tanto al limite Sanno accoppiati Se No Voi due Voi due andate bene Va bene Signori Superiamo tanti like Ma è che io ci ho provato Giuro Ci ho provato E ci stavamo anche riusci Signori Se il video d'oggi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Sono diventato uno squirtor Bella Ciao